Domenica prossima alle 17.30 impegno sul campo dell'Andria. Torna a disposizione Brosco, ancora lavoro differenziato per Mora che sta smaltendo il trauma cervicale patito nel match col Foggia. Tuttora infortunato il neo biancazzurro Gozzi, preso in prestito dal Genoa. Assai probabile il rilancio del primo minuto di Facundo Lescano. In questo caso Vergani partirebbe dalla panchina. Pugliesi ultimi insieme con la Viterbese in classifica 18 punti di cui 15 ottenuti in casa davanti al pubblico amico 4KO, uno in meno del Pescara. Dal 27 novembre, domenica dell'ultimo successo sul Giuliano 2-0, l'Andria ha racimolato tre punti nelle successive 11 partite. La gara sarà diretta da Michele Giordano della sezione di Novara.